Eccoci, siamo di nuovo insieme, sono Roberta Gagliazzo, nonostante l'acconciatura nuova, ma soprattutto quest'ora è dedicata a Karma. C'è Mattia qua, qui presente, pronta a rispondere a tutte le vostre domande perché è il designer di Karma. Esatto. Dicevamo che tantissima esperienza, tantissimo amore per queste scarpe. Sì, assolutamente, ogni creazione è come se fosse una fidanzata. No, non dire un figlio, non dire una fidanzata. Diciamo che ci tengo moltissimo a ogni design, a ogni modello, perché veramente ci mettiamo molta passione nel crearli. In questa scarpa, questo stivaletto in pelle scamosciata con borche decorative, novità del giorno, vedete, le abbiamo sia nere che top, ma in tutto ne abbiamo solo meno di 10. Vuol dire che tra il nero e il top ne abbiamo meno di 10, vuol dire che la disponibilità è limitatissima. Quello che sta indossando Burnilda è il colore top, 119 euro e 93 centesimi. Prima mi dicevi che questo è uno zoccolo e uno stivaletto insieme. Sì, ci siamo molto divertiti a creare questo modello perché è proprio una fusione tra uno zoccolo. Sai quegli zoccoli classici? Infatti la suola, come puoi vedere, è una riproduzione di uno zoccolo in gomma, proprio per essere flessibile. E l'abbiamo fusa con questa tomaia. È flessibile allora? È, diciamo, ammortizza. Non è proprio flessibilissimo, però ammortizza la camminata perché con il legno sarebbe un po' problematico. Certo, non è legno. No, non è legno. Non è legno perché sennò non è lo zoccolo olandese. No, no, esatto. È un, diciamo, un finish che imita molto bene il legno. Abbiamo creato questa tomaia molto elegante con questo risvolto in ecopelo, che è molto elegante, molto chic e poi il tutto arricchito da queste borche che richiamano un po' questi zoccoli finlandesi. È un articolo che piace tantissimo alle nostre clienti e ce lo chiedono continuamente. Poi è molto pratico perché comunque abbiamo messo una zip nella parte posteriore, come potete vedere, e completa anche di salvacalze. Infatti la apro, come potete vedere, è molto semplice da vestire. Eccola qua, eccola qua, perfetto, sì. Con un salvacalze perché ricordiamo sempre... Sì, io che sono anticollante. Esatto. E proprio perché è talmente rapida da indossare che Manuela, pronta, mi ha portato la 39 nella versione top e guardate quanto è chiccosa. È veramente bella e vi assicuro, ecco, volevo farvi vedere la comodità perché è veramente molto, molto comoda. E piace molto a Manuela che mi dice, bella da dietro le telecamere. È veramente bella. Perché nei don... Sai che durante i tuoi show c'è una marea di donne che vengono qua, tra le stylist e tutte le assistenti, è incredibile. E vi assicuro che è veramente molto comoda. La 36 nella versione nera è già esaurita. Non vi perdete la 42, mi raccomando, il 35 perché meno di 10 pezzi. Adesso secondo me meno di meno di 10 pezzi perché continuiamo ad andare avanti. Io le ho volute provare, Mattia, perché volevo veramente testare. Io sono come San Tommaso, devo testare, volevo testare la flessibilità. Hai sentito che all'interno comunque c'è sempre la gomma a piuma. Sì. È flessibile e in più ha questa bellissima suola dentata che aderisce a una perfetta aderenza. È veramente un'alternativa. È un bellissimo tronchetto, molto molto flessibile. Ne abbiamo veramente pochi, ne abbiamo una, un pezzo per ogni taglia rimasta. Dunque sono sei taglie rimaste, ci sono solo sei pezzi. Che bello anche col calzetto così come si mostrano adesso. È proprio abbinato perfettamente. È un bellissimo tronchetto, è un bellissimo tronchetto.